del golf, infatti è giocatore stretch, è azzurro e nazionale negli anni 80, è stato componente della Commissione federale a nuovi impianti e da 15 anni presidente del golf club Mila Sole, è membro dell'associazione italiana più dettica più da golf e senior member di quella internazionale. Nel 1989 ha rilevato il golf e le rovedine dalla società di famiglia e nel 1995 si è occupato dell'organizzazione del 52esimo Open d'Italia e nel 2009 ha organizzato il 22esimo Levis Italian Open, organizza circuiti di golf ed eventi speciali in tutto il mondo.